quello che rimproverano alla mail sostanzialmente oh get off di aver imbarcato il paese in un'impresa titanica vale a dire loro dicono il governo sta succhiando ow get off devo dire che non hai nulla da evidare alla flemma britannica però perché ti si menano dietro e non hai fatto un pizzero va bene questo è stato picchiato ma non sa da chi sostanzialmente vabbè comunque tornando al discorso il concetto qual è il concetto che accusano la mail di essersi imbarcata in questa in questa impresa che sta succhiando le energie del governo per tornare al discorso seriamente diciamo che abbiamo avuto il nostro momento il nostro momento mister Bina il nostro momento non non